Adesso che mi sono separato da Camma, posso spiegarvi meglio cosa è successo Però direi di fermarci da qualche parte Magari al parcheggio dell'Agraria non sarebbe male Oppure anche qui Ok Allora, questo è il video post-incidente Vi spiego in sostanza cosa è successo, ma penso che lo avrete già visto dal video Per chi non avesse visto il video dell'incidente, ve lo lascio qua nell'arina alto a destra Stavo impennando in Corso Dante, ovvero una via del centro della mia città Dietro una Dacia Duster, non troppo vicino ma abbastanza lontano Impenno, ovviamente l'impennata si tende ad aregas Quindi un pochino ho accelerato e mi sono avvicinato a questa Dacia E purtroppo davanti alle strisce c'era parcheggiato un furgone Il quale non poteva essere parcheggiato lì Dato che era a meno di 5 metri dalle strisce pedonali E soprattutto era zona di carico-scarico Però essendo un furgone magari aveva il permesso Ma comunque non c'era nessuno lì nei dintorni Quindi il furgone era in sosta Dei ragazzi tranquillamente vanno per attraversare Questa Dacia Duster non so il motivo Invece che rallentare piano e effettivamente capire se riusciva a farli attraversare o meno Ha deciso di inchiodare E quindi io il tempo che sono sceso dall'impennata e il tempo che ho frenato Non sono riuscito a evitare l'impatto E gli sono entrato come potrete vedere con questa parte qua dello scooter Nella macchina appunto Dopodiché abbiamo fatto il CID Tutte le cose le avrete già visto nel video Il booster che danni ha subito? Per fortuna il booster ha subito dei danni principalmente di carene E non di forcelle o di ruota Ovvero il sottoscudo Ovvero questa parte qua Che da questa parte un po' ne è rimasto È stato completamente dilaniato Questo è il sottoscudo che avevamo ricostruito in carrozzeria Perché il pezzo originale non si trova più Adesso ricostruirlo sarebbe veramente impossibile Dato che come vedete manca praticamente tutto Passando allo scudo proprio Che è stato dilaniato qui Si è rotto l'attacco qui Si è rotto qui E basta Si è spezzato in due parti insomma Per fortuna la carena degli occhi potremmo dire del booster Non si è fatta da anni Altrimenti invece che solo lo scudo Avrei dovuto comprare tutto il kit di carene Dato che non vendono solo questa Separata dal resto dei pezzi Le forcelle non le ho ancora controllate Ma sembrano essere a posto Anche usando il booster non lo sento strano Non sento che balla Non sento che fa nulla Quindi dovrebbero essere a posto Poi può essere che magari un briciolo si sono stortate Ma ho i miei dubbi Dato che riguardando il video La macchina l'ho presa per lo più in laterale Che in frontale Quindi il booster ha subito questi danni qua Se mi seguite su instagram saprete che ho cercato un ragazzo Che avesse il sottoscudo appunto Perché non lo producono più E quindi non lo vendono da nessuna parte E l'ho trovato fortunatamente Ora i pezzi mi dovranno ancora arrivare E niente quindi il booster ha avuto questo Principalmente i danni Per ora sono andato a risolvere il problema Con una, due, tre e quattro fascette Ma come vedete è ancora bello ballante Perché questa settimana che viene Oggi è domenica Questa settimana avrò una visita molto importante Per quanto riguarda l'ansia e tutto E purtroppo come già penso che sappiate Non riesco ad andarci in macchina Dato che questo luogo è abbastanza lontano da casa mia E quindi volevo andarci in scooter Ho avuto l'incidente Per questa settimana cercherò di usarlo il meno possibile E di usarlo solamente per andare a fare questa visita molto importante Arrangiandomi con delle fascette Ovviamente queste cose cambiano le persone Non impennerò più in centro abitato O meglio magari qualche volta qualche impennata mi scapperà Ma non dietro alle macchine Soprattutto alle dacia duster Perché sono indistruttivi di quelle macchine Adesso ovviamente si ironizza finché si può Dato che io sono ancora in piedi Sono ancora sulle mie gambe Quindi detto ciò penso che il video possa concludersi qua Noi ci vediamo con un prossimo video Un ringraziamento speciale a tutti quelli Che mi avranno sicuramente aiutato nei commenti O in direct su Instagram Detto ciò io vi saluto Un salutone, un bacione E da me è il booster purtroppo distrutto Bella raga